Startup Italia Open Summit riparte dalla Sardegna. A Cagliari, negli spazi della manifattura tabacchi, la prima tappa di Sios 23, l'evento di riferimento di Startup Italia dedicato alla filiera di startup e investitori, pensato per compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'innovazione. Siamo davvero contenti di tornare qui a Cagliari dove tra l'altro abbiamo i nostri uffici e finalmente ripartire con i nostri eventi sull'innovazione, visto che il Sios è diventato ormai una tappa imprescindibile per chi vuole fare innovazione, vuole partecipare all'innovazione, ci sono tantissimi giovani, possiamo dire fully booked, quindi questo è entusiasmante in una location davvero speciale, davvero particolare dove la partecipazione è quasi implicita. Un format della Media Company Startup Italia che quest'anno festeggia il decimo anno di attività, con l'obiettivo di coinvolgere una platea sempre più ampia per creare un connubio virtuoso tra formazione e intrattenimento. L'appuntamento di quest'anno infatti aggiunge un punto di novità rispetto alle edizioni precedenti di Sios Sardinia. Nel corso dell'evento i diversi workshop a tema tecnologia e innovazione aperti anche agli studenti. L'innovazione è importantissima, dobbiamo restare al passo con quello che sta succedendo perché se è vero che siamo di fronte a una rivoluzione con l'intelligenza artificiale e tutte le tecnologie emergenti, se non riusciamo a coglierne le opportunità rischiamo di essere superati. Questa è un'occasione, una bellissima giornata per parlare di tecnologia, di innovazione e di start-up, di creazione e di impresa. Per i nostri giovani ci sono tante opportunità e l'università ancora una volta è qui con i suoi progetti, la sua energia e i suoi ricercatori che sono a disposizione del territorio.